Per questo oggi vedremo delle strutture istantanee che proprio non ti immagini neanche per sbaglio che cosa vedrai Sei carica? Sì tantissimo Allora ne ho selezionato alcune ma ti garantisco che ce ne sono tipo una cosa come 100.000 E ne ho selezionato una quindicina perché altrimenti erano troppe Tu sarei la detta ad evocare queste strutture perché altrimenti a me fa un sacco di casini strani nella registrazione e non andrebbe bene Quindi evocherai le cose che io ho scelto Bel lavoro, grazie Ti dico già che non saremo diciamo degli osservatori di case Ma saremo osservatori di statue, di costruzioni particolari, di cose gigantesche Ma non di case perché le case ormai le conosciamo bene e sono abbastanza banali Certo, ne abbiamo visitate tante Esatto, allora prima il suo oggetto magico e ci faccia vedere un pochettino una bella struttura Si puoi decidere tu quale evocare Fere Facciamolo vedere bene Stef L'abbiamo vista tu Ok, vado io, scelgo io Ci si vai tra i favoriti e scegline uno di quelli che io ho scelto Ok, aspetta Quello che ti ispira di più così sul primo colpo Mi raccomando scendi bene Sono tante Stef, mi stai mettendo un po' un'ansia È il momento presentazione Cioè qua si decide tutto Se i consolini rimarranno conquistati da questo video o no Fere Quindi la tua scelta è importante Brava Fere Ma No, sei stata splendida Allora, consolini, 10 lode Tutto a posto Stef, guarda, guarda Fatto Complimenti Fere Ascolta, non è colpa mia Stef, mi hai dato allora un oggetto rotto No vabbè, oggi siamo un po' sulla sfida prova a non crashare Ormai i consolini si stanno abituando però ci sono queste cose di prova a non crashare spesso e volentieri È un duro lavoro Allora, questa qua è una casa con delle ruote perché teoricamente è una casa mobile Secondo me è davvero 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 carina Quando l'ho vista mi ha conquistato Però volevo andare al volo a vederla anche all'interno perché da qua ci sono gli scalini E si può salire Ok Qui c'è la porta infatti, se ricordo bene E guarda, qua hanno fatto il timone per guidarla È bellissimo Che è molto bellino, ovviamente è tutto vanilloso al 100% Che è la cosa migliore Da qua si scende Quando sono così molto vanillose C'è l'entrata anche da qua, quindi dal retro Però c'è una casetta perché è quello che mi incuriosisce Secondo me è qua sopra Da qualche parte dobbiamo salire Insomma Insomma Un tavolino, ti godi la vista Diciamo che più che una casa mobile è un camper mobile Perché comunque non dà tutte le comodità di una casa Però comunque ha diverse comodità per essere un qualcosa che si muove Certo, certo Questa era molto carina, Fere Hai scelto abbastanza bene Anche se devo dire che ho delle costruzioni molto più belle Quindi vai con la seconda Speriamo di non crashare di nuovo Allora, mi metto qua Consolini, dovete contare quante volte si crasherà in questo video Concentrato, Stef Vedrete roba figa Fai qualcosa di carico Provo a sbirciare anche io per darti qualche consiglio Sì Vero, questo è bello Questo è figo Lo sapevo che ti sarebbe piaciuto, Stef Ti prego, Giacomo Non crashare Ok, ok E siamo a due Aspetta Io sono crashata e sono rientrata Non chiedermi perché Ma è successo così Potrebbe essere ancora peggio Siamo di nuovo crashati Ma ne vale la pena Solo tu, Stef Allora, io voglio farlo vedere così E voglio vedere se i consolini in questo momento stanno indovinando che cos'è Secondo me è semi impossibile capirlo Però, devo dire che qui non potete capire in nessun modo che cos'è Ma qui un po' si capisce Che cosa sembrano queste delle gambe di un creeper Quindi, se noi ci allontaniamo un po' e lo facciamo vedere da lontano Abbiamo un creeper con la corona seduta in un trono Ed è un king creeper Però, Fere, non è tutto Qua si può entrare Ho notato E ci sono delle scale Non so bene dove portano Ma ci sono delle scale Vediamo dove finiamo Ok Ok Dove cavolo stiamo andando? Vabbè ma quante scale sono? Beh perché credo che arriviamo fino alla cima proprio Eh, probabilmente magari vediamo il panorama dall'alto No, vabbè Aspetta, aspetta, sto arrivando, Stef Sono tante scale È proprio nella corona che stiamo Sì, immaginavo che infatti sbocassimo da qui È tipo la terra di Pisa però con un creeper Sì, è un king creeper Un king creeper Bellino questo Bellino Bellino come seduta nel trono È davvero una figata Pensate se lo facessero con te, Fere Eh sì Tu seduta nel trono Ti piacerebbe, vero? Sarebbe la costruzione di Minecraft più bella mai fatta, Stef Eh, lo so Però non credo Questo lo sappiamo tutti Non credo che te la farà nessuno Allora, io ho un solo obiettivo Non sfilari i consolini, Stef Non sfilarli Io ho un solo obiettivo per oggi Vorrei riuscire a piazzare una struttura senza crashare Stef, non te lo posso promettere Io adesso mi allontano molto da te Perché tanto Io ci provo, eh Sai cosa puoi fare? Ok Prova Tieni Tieni, 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 tieni No, no, no Non evocare, non evocare Questa è una strategia Ti prendi i blocchi Vai molto verso l'alto Miri verso terra Un po' lontano da te E provi ad evocarlo Vai, vai, vai Sali verso l'alto Secondo me funziona Secondo me no, Stef Questa è un'ottima tecnica Girati verso destra Qua? Alla Sin State Creeper Esatto Metti l'oggetto Ok Ed evoca qualcosa Allora io do una sbirciatina Perché vorrei vedere Che cosa vuole evocare Fede Vediamo Secondo me è ora di stupire Secondo me Al 200% Ho questa Secondo me è quella Ho questa, vero? Vedi, vedi Siamo in sintonia Secondo me è il momento E questa è grossa, raga Qua il crash è più che giustificato Sei pronto? Eh, io sono andato Eh, sì Sì, sì Io crasho Lei crasho e rientro Cioè, non ho capito E invece non rientro Però Steph Eh, un attimo Muoviti a rientrare Eh, va bene Ok, tutto in regola Allora, voglio subito spiegare È un parco giochi Che fluttuo in aria Ovviamente noi questo Abbiamo piazzato adesso Abbastanza a terra Ma si può mettere totalmente Nel cielo Certo, certo Raggiungibile solo nei peggio modi Ed è una roba fantastica Allora, vabbè Da lontano avete visto C'è un dirigibile C'è una giostra lì in fondo E qua c'è altra roba Però, secondo me Riesco pieno pieno ad arrivarci Ok Uff, che fatica però, Fede Potevano inventare anche l'ascensore Dato che c'erano, no? Direi, Steph Allora, quanto devo andare ancora in alto? Beh, dai Ce la si cava, ce la si cava Oh mio Dio Ci voleva una sorta di teletrasporto Tipo che se capiti sotto Poi viene teletrasportato Magari con un tasto Ha comunque dei vantaggi Vieni, vieni, vieni Segui il mio ponticello Ha dei vantaggi perché così Non può arrivare nessuno Che tu non vuoi Non hai ospiti indesiderati Se in cielo Sponi direttamente lì sopra Ok Non lo so, Steph Allora Allora, allora Allora, allora È difficile da guardare Qua c'è la ruota panoramica C'è pure la porta qua Che bellino Oh, che carino Carino, carino, carino E questa quindi è la ruota panoramica Ovviamente sta ferma Ma quello era ovvio Però se vedete È davvero, davvero, davvero È enorme Gigantesca Poi Allora Ci dovrebbero essere un po' di cose Qua c'è ovviamente un negozietto Dove ti vendono un po' di cose Qui c'è una giostra Che secondo me È bellissima Che bellina Io adoro sti tipi di giostre Tutto, raga In vanilla Cioè, guardate Vedete che sono chiaramente A forma di cavallo Ma sono pazzi, Steph C'è un burrone, vero? Eh sì Io stavo saltando Tranquilla Stavo per volare di sotto Eh, lo so È un parco giochi un po' pericoloso Rispetto ad altri Ho notato, ho notato È solo una torre, vero? È solo una torre Però ci fa vedere meglio La ruota panoramica Che infatti è al centro Ha questo personaggio Che sembra tipo militare Sì Che infatti aveva un mezzo notato Ma non la vedeva abbastanza bene Ah no, Ferre Oh no, è carino Sì, è una specie di scivola Sì, le scivoli su Minecraft Dato che non possono esistere Normali Di seto sono di droppe Bellino, dai Allora ha senso Il discorso è E in modo stiamo? Boh, usciremo da qualche parte Spero No Allora, qua ando bene Non ci piace Più avanti Va bene Un'uscita, por favor Ci siamo incastrati a vita Ecco qua Questo è perché ti sei voluto buttare Io ti ho pure seguito Beh, è stato divertente però No, per niente Sì Allora, secondo me È tutto a parte del gioco Dici? No, forse no Mi sa che schiattiamo a priori Vabbè Io mi sa che mi lancio, Ferre Non hai un secchiello d'acqua? No, purtroppo Cosa me ne faccio Di un secchiello d'acqua? Eh, non lo so Per le discese, Ferre No, mi spiace, Steph Allora, io di un altro gradino Sono riuscito a scendere Aspetta, 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 aspetta Aspetta Steph ha giocato a sufficienza La skygrind Per diventare bravo in queste cose Sì, sì, sì Ce la faccio, Ferre È come se ce la faccio Guardate Ok, voi fate così Steph, ho trovato le scale Facevi il giro, eh Davvero? Ma sei sicura? Sì, 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 sì Non è un bag di grafico Sto salendo, no, no, no Sto salendo Infatti sono di nuovo sopra No, no, no Bastava che andavi un po' più avanti Secondo me Stai mentendo Ma sono sopra No, no È un'illusione Ferre, è un'illusione ottica del parco giochi Steph, vai a prendere le scale Guarda Fatto Chi è il pro qua? Chi è il pro? Io sono sopra, tu sei sotto Allora Vorrei dire, Steph Eh no, ma io volevo scendere Comunque questa qua è l'isola Comunque, aspetta Io volevo far vedere C'è quel pagliaccio di fronte Che mi faceva vedere nell'anteprima della struttura Ah, sì E io lo voglio vedere perché sembra fantastico Allora, io lo guardo da giù Così ho la visuale panoramica Che succede, Ferre? Io voglio andare un po' in creative Voglio vederlo bene Eh, ma Ferre Eh, lo so Eh, ma Ferre Lo so Però questo è talmente grande Che secondo me non lo vedi bene da sotto, Steph Non è come il creeper Eh, sì Mi ha tentato, è colpa sua Allora, fammi No, almeno per vederlo, dai Almeno per vederlo Ok, no, è una figata Ferre A parte che ha gli occhi bellissimi Ma nella bocca C'è tipo l'entrata per il nether Oh mio Dio No, bellissimo Bellissimo Nether classico, sì Non credo possa riuscire a modificare In nessun modo No, non penso che ci possano essere Sì, sì C'è dimensioni, no? Ok, ok, ok Figata Ma guarda anche la ruota Il dirigibile che è bello Il dirigibile è un pesce, Steph L'hai notato? Uno squaletto, tipo, no? Eh, sembra di sì Non lo so E io vorrei tornare a te, Ferre Ma qua il portale si è rotto Dai Non mi piace Ma perché ci sei entrato? Eh, Ferre, vale Sto sempre rovinando tutto oggi Cioè, dovevi far vedere il bel parco Ferre Non va Ok, ce l'abbiamo fatto Meno male Ok, vieni qua Allora, fatemi farmi vedere Dove è il dirigibile pesce? Dov'è, dov'è Che bellino che è Che bellino È bellino E guarda, vieni un po' più indietro E fai vedere tutto Guarda anche la ruota panoramica Che bella Ah, figata Lo so Bellissimo, bellissimo Allora, Ferre Prova a mettere il prossimo edificio in creativo Magari ci dà una mano Ci dà un buff per non crashare Vai Sì, sì, sì Secondo me Allora, vediamo un po' più Con solini Cosa vorresti far vedere? Ci sono tante cose belle Quello è bello, eh Ho anche questo Ma potresti Puoi mettere quello lì rosso? Questo? Mhm Perché ero curioso Vai Cioè, secondo me è brutto, lo sai? Però Secondo me Però sono curioso Però l'hai scelto tu Però sono crashato Vi starete chiedendo che cos'è La risposta è che non lo sappiamo neanche noi Però sappiamo soltanto No, tecnicamente Che dobbiamo salire verso È un arcobaleno Camminabile Chiamiamolo così Perché non so come altro definirlo Fere, ma Ci sono anche gli stanzini Ah, carino Puoi salire su Per vedere il panorama E ne approfitto Per far vedere Cos'altro abbiamo evocato Perché ho pensato Fere, ma a sto punto evoca tutto È certo Così Giusto Qua c'è la discesa Sì, sì, sì C'è tutta la discesona E poi immagino Ci siano le scale Come dall'altro lato Fammi vedere un pochettino Sì, sì, sì Sì Vabbè, è carino Dai, è carino Non lo so È un po' No, siamo tornati dall'ingresso, Steph Sì? Sì Vabbè, tanto sono uguali Sì, è uguale, uguale, uguale È adiacente, è uguale, uguale Tutto a posto, Steph Tanto ero ancora in creative Per tua fortuna Perché se no non riesci a vederle Queste strutture Allora Farlo vedere da furia, è bello Game of Uno Ok Volo E no, non è bello È un arcobaleno Dai, è carino Poi, altra ruota panoramica Altra ruota panoramica Carina anche questa Anche non se ne accorge Che io sbaglio a dirlo Mi viene di È para Invece che è pana Non importa, Steph Invece che è pana Paronamica Paronamica Perché mi suona male nel cervello? Perché lo stai dicendo male? Panoramica Panoramica Invece dico para Quello dicevo No, dici paronamica Panoramica Qui ci sono le varie cabinette Come si dice, Steph? Panoramica Ok Vedete le varie cabinette È carina, è carina Molto carina Anche se sinceramente Il mio parco giochi preferito Rimane quello Ma questa è soltanto la ruota Da sola Eh lo so Ma quella è fantastica È anche più bella la ruota E poi E poi Io volevo far vedere questo Perché Oggi Qualunque giorno sia oggi È uscito un video Su un giochino horror Molto molto simpatico Appunto Sul Krusty Krab Di Spongebob Quindi Andate a vederlo Lo trovate in alto a destra Nella Nella i Col puntino È anche in descrizione Quindi andate a guardarvi Questo video Che è super carino E anche questa di produzione Comunque devo dire Che è simpatica Piccola ma simpatica Allora è più carina da fuori Che da dentro Perché dentro è davvero minimale Nel gioco è fatta meglio Esatto Non hanno fatto neanche le stanzine qua Però Però ci sta dai È piccola ma bellina Secondo me Se lo evochi E poi te lo arredi tu Migliorando È molto carino Esattamente In ogni caso Ci fermiamo così Perché tanto abbiamo Altre due miliardi di strutture Non fa far vedere tutte Speriamo che il video vi sia piaciuto Fatecelo sapere Perché nel caso Ci sono davvero altre Tipo 80.000 strutture E non sto scherzando Cioè non è che esagero Ci sono davvero 80.000 strutture Quindi se vi piace Facciamo altri video In questo genere Magari cercando Certi Certi strutture Neospecifico Altri video qui sotto Da qualche parte Ci sarà appunto Anche quello dei Krusty Krab Quindi andate a dargli uno sguardo E ci fermiamo così